Arriva dopo circa nove ore dall'avvio dello scrutinio, il risultato consolidato per Arezzo per le elezioni amministrative si va al ballottaggio. Con una percentuale che si attesta attorno al 47%, Alessandro Ghinelli, sindaco uscente e candidato per le forze di centrodestra, dunque non arriva al 50%. L'altro candidato, Luciano Ralli, per le forze di centrosinistra si ferma al 35%, è ballottaggio. Dunque, si apre la strada del confronto diretto tra me e Luciano Ralli con i nostri programmi, con le nostre prospettive, io dico anche con un consuntivo di quello che abbiamo fatto e quindi secondo me si apre un confronto positivo per me. Lei si è detto ottimista, insomma fino a poco tempo fa, l'Oresta? Io sono ottimista e il mio ottimismo è stato ripagato perché se si guarda il risultato che ha fatto la coalizione di centrodestra nel 2015, quello che ha fatto oggi ci sono più di 10 punti, pari 11 punti di differenza in più a oggi. È cresciuta anche la lista civica, quindi io sono contento del risultato, che non è però un risultato vincente. Voi capite che fare il 49,9 o il 51 cambia molto poco in termini di risultato, però è opposto per quello che riguarda il fatto di evitare o non il ballottaggio. Non lo abbiamo evitato, avremo altre due settimane di lavoro da fare, di confronti per me particolarmente gravosi perché ho ancora due settimane da fare il sindaco e quindi da fare tutti gli adempimenti che la mia funzione richiede appunto in questo periodo. I risultati che abbiamo ottenuto in vari campi sono tangibili, sono sotto gli occhi di tutti ed è a questi che sicuramente ha fatto riferimento l'elettorato quando ci ha dato questo consenso in più, non tanto quanto ci avrebbe consentito di vincere al primo turno. Non hanno pesato le vicende giudiziarie su questo dato? A mio avviso no. Da questo momento si riparte da 0 a 0, questo vale per Ghinelli e vale anche per me, però permettetemi dirvi che sono mesi che stiamo costruendo la necessità per Arezzo di un'alternativa all'amministrazione Ghinelli e oggi si concretizza con il fatto che la maggior parte degli aretini che sono andati al voto e 7 aretini su 10 non hanno votato per la continuità dell'amministrazione Ghinelli. Io vi ricordo che nel periodo Covid, mentre il sindaco dava dei dati di una battaglia che altri stavano combattendo, io ero nel nostro ospedale pubblico a fare il mio lavoro in silenzio, già costruivavamo l'alternativa a Ghinelli, abbiamo messo insieme numerose forze politiche, liste civiche e continueremo perché tutti coloro che si sono candidati a sindaco in questo primo turno avevano certo l'obiettivo di essere alternativa a Ghinelli, se no non vedo perché si fossero candidati. Credo che stia a me ora fare sì di allargare la vasta alleanza che abbiamo già messo insieme, è un lavoro che sta dando i suoi frutti e quindi il primo passaggio era questo, importante, non scontato, io ricordo e lo ricordo perché è importante, i dati di ieri confermano che i presidenti di regione, i sindaci in carica che hanno governato nell'epoca Covid, nel periodo Covid hanno tutti avuto consensi intorno al 60, 65 e anche più, vuol dire che questa amministrazione Ghinelli invece non trova consensi, probabilmente non ha amministrato bene, c'erano delle opportunità che questa città non ha colto e poi chiaramente c'è l'aspetto anche che è un sindaco che è stato, come dire, è ancora indagato da più di un anno, non ha fatto chiarezza rispetto alla sua posizione e si è voluto ricandidare. L'altro candidato che a questo punto potrebbe essere l'ago della bilancia in fase di ballottaggio è Marco Donati che si attesta intorno al 9%. Saliamo al 9%, è un progetto nato in pochi mesi, trovo la soddisfazione di aver coinvolto circa 4.000 cittadini, non è mai successo in questo territorio, nel nostro comune che una lista civica fuori dai partiti tradizionali raccogliesse così tanto consenso, è un primato ma non ci fermiamo qui, questo è l'inizio di un percorso.